ciao ma che fai? controllo se ho tutto con me stai partendo per un viaggio? sì vado in una zona dove entrare è molto difficile davvero? e dove vorresti entrare? voglio assolutamente entrare nella zona bruciagrassi ciao amici oggi vediamo insieme i 10 migliori sport bruciagrassi più un bonus segreto che pochi conoscono ma è super efficace oh simona io dovrei farli tutti e 10 devo bruciare grasso dappertutto non solo tu è così per molti sentite qua il sito men's fitness ha condotto un sondaggio tra i suoi lettori e ha scoperto che il 43 per cento degli uomini preferisce avere un fisico equilibrato nel complesso piuttosto che un solo gruppo muscolare pompatissimo e il resto del corpo così così e anche per noi donne le statistiche sono simili quindi gli allenamenti che vi faccio vedere oggi servono a tenere in forma tutti i muscoli e a sciogliere i grassi in tutti i distretti del corpo poi se volete lavorare su un aspetto specifico come le cosce o i fianchi potete seguire i training di serena li trovate nella scheda cliccabile con la piccola i qui in alto e in descrizione tra l'altro mi ha detto serena che sta preparando altri training per l'autunno e l'inverno grazie ne ho sempre bisogno non vedo l'ora e se li volete vedere anche voi amici mettete un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video a proposito se avete una parte del corpo su cui vorreste lavorare di più sempre nella scheda cliccabile qui in alto c'è il sondaggio dove potete chiedere a me e a serena quale allenamento volete che vi faccia vedere mettete un attimo in pausa il video e partecipate subito votate mi raccomando così poi le faccio vedere i risultati e li dico anche a voi in un prossimo video se siete curiosi squaletto dice che ha votato le pinne grazie a tutti gli amici che hanno partecipato al sondaggio ora vediamo i 10 migliori sport brucia grassi che fanno anche fare un allenamento completo grazie a tutti 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 grazie a tutti